Sono città dinamiche, popolate e ricche. Le città europee fotografate nel corso del 200 da cronisti, da uomini di lettere, da viaggiatori appaiono agglomerati straordinari, straordinari per la varietà di merci di ogni genere, per l'abbondanza di prodotti della natura e dell'agricoltura che affluiscono dalle vicine campagne. Straordinari naturalmente anche per la bellezza e lo splendore dei loro edifici, per la vita che si svolge nelle strade, nei mercati, nelle botteghe artigiane. Dal colore e dal chiasso dei mercati generali di Milano, a cui mirabilmente affluiscono il numero quasi incalcolabile venditori e compratori delle varie merci, allo slancio verticale di Pavia Bella, che si offre allo sguardo anche da lontano, per arrivare a Genova, regina dei mari e dei traffici, che fa partire dallo specchio del Mediterraneo su cui si affaccia, il suo navillo si grande che per tutto lo mar si espande, per risalire, in questo grand tour delle meraviglie dell'Occidente, verso Venezia, la più bella e la più piacente città del secolo, almeno a stare al racconto del cronista Martino da Canale. La vita a Venezia era una cosa meravigliosa e felice perché l'uomo trova dentro quella città la vittovaglia e l'abbondanza e pane e vino e galline d'uccelli di riviere e carni fresche e salate e grandi pesci e di mare e di fiume. E voi ci potete trovare dentro questa bella città anche belle dame e damigelle e danzelle a gran numero, addobbate molto riccamente. Colpisce questa insistita attenzione all'abbondanza, all'abbondanza bella, la piena beltà di tutti i beni, scrive Martino da Canale. Del resto, già nel famoso sogno di Giuseppe davanti al faraone, non si contrappongono solo animali malati e animali sani, spighe secche e spighe piene, per indicare rispettivamente i periodi di carestia e i periodi di abbondanza. Si contrappongono soprattutto le vacche magre brutte alle vacche belle della bella stagione. Non diversamente vanno le cose nella opulenta Milano, celebrata a fine 200 da Bombesin della Riva nel celebre De Magnalibus Urbis Mediolani. Ed ecco prendere forma nel racconto anche qui abbondanza di beni e di generi alimentari. Pane, vino e carne saporita di qualsiasi genere e ottime carni di bipedi selvatici e domestici e ancora miele, cera, latte, ricotte, burro, cacio, uova, gamberi e pepe. I forni che cuociono il pane ad uso dei cittadini sono 300, scrive Bombesin, i macellai più di 440, i bottegai che vendono al minuto un numero incredibile di mercanzie più di mille. I pescatori che quasi ogni giorno pescano in abbondanza nei laghi del nostro contado, pesci di ogni tipo, sono più di 18, ma quelli che pescano nei fiumi sono più di 60 e quelli che portano in città pesce pescato nei ruscelli innumerevoli dei monti sono più di 400. Una metropoli dal ventre enorme, una metropoli insaziabile. Le cifre di Bombesin della Riva sono impressionanti. Ogni anno Milano avrebbe divorato 450 mila moggi di cereali e macellato più di 20 mila bovini. Naturalmente tanta abbondanza di beni rinvia all'abbondanza di una popolazione in continuamento. Nulla di strano, scrive Bombesin, perché dove ben si vive la popolazione si moltiplica. La ricca dieta propiziava infatti agli occhi di Bombesin la fertilità delle famiglie, consentendo anche una lunga speranza di vita. Qui si trovano moltissimi uomini e moltissime donne in età anche molto avanzata. Tutti, secondo Bombesin, vivevano un'esistenza assai piacevole. Un'esistenza assai piacevole davvero per tutti.